Una piccola rivoluzione sociale che a Isernia rischia di rimanere in sordina. Si tratta del progetto cittadino attivo che porta con sé un nuovo modo di pensare e di programmare gli interventi di aiuto per le fasce deboli. Il progetto è stato inoltrato alla Regione Molise nell'ambito della candidatura al bando per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. Ora si attende l'ok e il conseguente finanziamento da parte della Regione, 325 mila euro, per l'inserimento lavorativo di 50 persone che vivono in in una situazione di indigenza. Il progetto è stato ideato e strutturato in modo da consentire la possibilità di coinvolgere anche altri soggetti, motivo per cui il Comune di Isernia nelle prossime settimane chiederà alla Regione Molise un ulteriore finanziamento per allargare la platea dei beneficiari. Un lavoro, quello dell'assessore a ramo Pietro Paolo Di Perna, in collaborazione con i tecnici dell'ufficio Politiche Attive e dell'ambito territoriale e sociale. Grazie a un'analisi dei fabbisogni della popolazione è stato messo in piedi un progetto capace di rispondere alle esigenze di un largo numero di soggetti in grado di favorire interventi atti a migliorare in termini generali la vivibilità della città di Isernia. La vera novità sta nel riconoscere il ruolo attivo del cittadino, ha spiegato Di Perna, in modo particolare di coloro che oggi vivono un momento di difficoltà occupazionale e reddituale. Il reinserimento nel circuito lavorativo passa dalla presa di coscienza di un ruolo attivo nel tessuto sociale e dal fatto che la città debba essere considerata come un bene comune. I beneficiari saranno destinati a quattro ambiti di intervento riguardanti la valorizzazione del patrimonio pubblico, la tutela dei beni culturali e artistici, l'allestimento e la custodia di mostre relative a prodotti e oggetti del territorio, nonché di beni di valenza storica e culturale, attività ausiliari di tipo sociale, di carattere temporaneo. I beneficiari, a fronte di una retribuzione totale di 6.500 euro, svolgeranno diverse mansioni di pubblica utilità.